molti di voi ha girato la testa dall'altra parte io sto dalla parte di chi è stato secondo me abbandonato tu stasera stai mostrando una delle belle piazze dell'italia del sud e della sicilia la sicilia si inventato la mafia ma anche inventato un modo di combatterla la mafia se non mi fai e secondo me è corretto che noi abbiamo subito queste cose è da undici anni che lottate contro questo sono da undici anni che hanno fatto il diritto di lavorare vogliamo rispondere? nel 2006 e nel 2012 non abbiamo denunciato perché avevamo paura hanno paura tutti a mezzo di questo io mi dissocio da quella signora che sta applaudendo da tutta la sera da un balcone lei l'hai notata anche tu e l'ha notata Giovanni Caccamo quando lei dice eh ma sono cose di 20 anni di 30 anni fa mio padre è stato ammazzato 37 anni fa e io non accetto che qualcuno venga a dirmi eh ma tanto è una cosa che appartiene a tanti anni fa tre donne da sole non devono stare da sole i siciliani queste cose non le fanno queste donne hanno subito nel 99 una sassaiola e voi non lo sapevate? non lo sapevate neanche questo tu con la barba che prove ci servono? ci servono le prove vogliamo chiedere alla piazza se hanno avuto mai paura degli uomini di Provenzano da madre da ex donna delle istituzioni zitto mi rattrista che in questa piazza noi siamo stati sempre soli e stasera che c'è lei c'è la cacca mentre lei mi dava del farabutto la sua piazza ha applaudito adesso io scendo e me lo faccio dire in faccia ve lo dico qua no? quindi quindi mi hai detto quindi mi piace quindi sei d'accordo che io sia farabutto? no 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 avete detto sì io sono un farabutto perché avete applaudito sono un farabutto per voi sono un farabutto quella storia quella storia è falsa è la cultura che dovete combattere è la cultura mafiosa è la cultura mafiosa è l'omertà che dovete combattere questa è la verità questa è la verità grazie a tutti